Benvenuti nel mio canale, siamo di nuovo con voi per le notizie da tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere informato di tali video più velocemente. Non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Di recente, siamo stati contenti delle notizie di Ande e Chierem. Mapnar Elige, il presentatore di Beos Magazine, ha affermato che queste notizie odorano di pubblicità. I problemi che Ande ha dovuto affrontare ultimamente è la chiamata di Chierem a lei. Dire che guarisci presto potrebbe aver influenzato Ande. Ma Chierem ha una serie che arriverà presto sugli schermi. Allo stesso modo, ci sono alcune notizie di serie tv su Burak Demis di Ande. Per questo motivo, si sostiene che stiano cercando di attirare l'attenzione su se stessi. Sappiamo tutti quanto Ande sia innamorato di Chierem. Tutti possono vedere la felicità nei loro occhi quando si guardano. Se la signora Pinar ha ragione e anche se queste voci d'amore sono una pubblicità. C'è un amore incompiuto nel mezzo che deve essere completato ora. E questa coppia dovrebbe essere felice insieme adesso. Era così nelle nostre notizie. Se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ci vediamo al prossimo video. Addio, resta con Ande e Chierem.